ciao a tutti ragazzi e ben i brutti bene brutte bentornati in questo nuovissimo video sul canale la maggior parte delle persone che ha aperto questo video è per risolvere un problema molto serio in relazione al collegamento della pennetta usb al computer bene molte persone che utilizzano la pennetta usb per portarsi dietro tutti i loro diciamo file più importanti possono riscontrare un problema il problema è in relazione al fatto che per esempio la vostra pennetta usb a 32 gigabyte disponibili e dovete magari caricare un video che supera i 4 gigabyte bene la maggior parte dei casi vi darà un errore di file system questo perché la pennetta usb in poche parole è a un formato che è fat 32 il formato fat 32 non permette di caricare file che superano 4 gigabyte ovvero la dimensione del singolo file non può essere superiore a 4 gigabyte c'è scritto proprio qua questo è dovuto al fatto che la pennetta è in formato fat 32 quindi in questo caso ci permette di gestire diciamo file abbastanza limitati in termini di dimensione per esempio io che lavoro con i video un video può superare tranquillamente 4 gigabyte e per spostarlo da computer a computer magari per editarlo non posso farlo perché un singolo file può contenere massimo 4 gigabyte se superiore non è possibile copiarlo sulla pennetta bene questo problema è facilmente risolvibile cambiando il formato della pennetta quindi da fat 32 a ntfs in questo caso per fare questa operazione è possibile scaricare un software case as partition master è totalmente gratuito per creare eliminare di dimensionare unire le partizioni e ovviamente risolvere questo problema innanzitutto qui sul sito c'è un piccolo tutorial che spiega ovviamente come fare ma io ovviamente andrò a spiegarlo direttamente scaricando il software per scaricarlo dovete cliccare su scarica gratis ovviamente per windows ci vediamo all'interno del software ok ragazzi eccoci qui tornati all'interno del software l'interfaccia che si separa davanti è proprio quella del programma come vedete è ben gestito perché vi è la possibilità di migrare dati di clonare partizioni di recuperare una partizione persa di ovviamente utilizzare vari strumenti ovvero di ottimizzare il sistema di recuperare i dati o di effettuare un backup dei dati che sono software a parte sui quali diciamo ci ho già effettuato una recensione ma adesso torniamo a parlare dell'interfaccia in questo caso ci si parlano davanti tutti i dischi del nostro computer e tutti ovviamente gli hard disk in questo caso gli hard disk utilizzati sono cos e data in questo caso sono abbastanza pieni entrambi però non è la questione che andremo a trattare in questo video la questione principale è proprio quella di trasformare il formato di una pennetta da FAT32 a ntfs che come vedete è il formato degli hard disk presenti sul mio computer la pennetta invece è FAT16 ma può essere anche FAT32 in questo caso una pennetta FAT16 non ne ho trovate pennette FAT32 però il procedimento è il medesimo quindi non cambia assolutamente nulla ciò che dovremmo fare toccare col tasto destro sulla nostra pennetta e cliccare su formatta nel cliccare su formatta andremo a inserire qui FAT16 e sostituiamo ntfs dimensione del cluster ovviamente lasciamo questa qui e tocchiamo su ok ovviamente procedete a rimuovere i file sulla partizione perché in questo caso verranno cancellati quindi magari se avete un'altra pennetta salvateli su quella pennetta o in ogni caso salvateli sul computer che come vedete il file system del computer dell'hard disk del computer è ntfs quindi non presenta questo problema io in questo caso non toccherò su ok perché ho dati importanti sulla penna ovviamente qualche foto quindi non toccherò su ok però appena toccato su ok apparirà una schermata di caricamento tutti i dati verranno cancellati la pennetta verrà completamente trasformata da file system di FAT16 o FAT32 a ntfs e in questo caso il problema sarà risolto potete caricare file di cui la singola dimensione può superare anche 4 gigabyte direi che il problema è stato principalmente risolto ora parliamo un attimo del programma perché alla fine un programma abbastanza importante perché ci offre la possibilità di formattare ma anche di pulire dati per ovviamente migliorare diciamo l'utilizzo del computer meno dati abbiamo più il computer sarà comunque fluido avremo diciamo meno rallentamenti per così dire quindi magari sul mio hard disk principale che è questo posso provare esplorare l'hard disk quindi mi presenterà tutti i miei dati come vedete ma posso provare anche in questo caso a formattarlo o di aumentare lo spazio disponendo diciamo delle partizioni virtuali ecco posso anche visualizzare nelle proprietà ovviamente mi dimostrerà una percentuale dei dati utilizzati e la memoria disponibile questo per quanto riguarda il programma per quanto riguarda diciamo le versioni che si possono utilizzare vi è quella gratuita che è quella che vi sto mostrando ovviamente che permette di fare ciò che vi ho detto vi è quella professionale a 34 euro e 95 comprato una volta e ovviamente lo avrete a vita che permette di gestire partizioni di gestire dischi avviabili e recupero di partizioni la versione server vi permette di fare tutto tranne l'utilizzo dentro di una società unlimited vi permette di fare invece tutto quindi anche di utilizzarlo su sistemi operativi di tipo windows server perché per chi non lo sa sono quei sistemi operativi utilizzati ovviamente all'interno di aziende che ovviamente hanno sistemi operativi di tipo server bene ragazzi io direi che per questo video possa essere tutto io spero di essere stato il più semplice possibile nella spiegazione di aver spiegato bene tutti i passaggi direi di mettere like commentare iscrivervi al canale di passare anche nei link che ovviamente troverete in descrizione compreso il dolo di questo programma per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi